Ciao a tutti, sono con voi, molto sorridente perché vi porto una grande novità Emons alla quale abbiamo lavorato, di cui vi abbiamo già annunciato l'uscita, ma adesso finalmente in realtà. I nostri audiolibri in libreria avranno anche la possibilità dell'ascolto digitale sui vostri cellulari. Riconoscerete tutti gli audiolibri che hanno questa possibilità da questo bollone arancione. Il primo è Orlando di Virginia Woolf, letto da Sandro Lombardi nella nuova traduzione di Mario Fortunato. Come arrivare alla vostra copia digitale? Attraverso il QR che sta all'interno del cofanetto, le spiegazioni sono nel foglietto. Comunque è molto facile scaricando la nostra app. Grazie a tutti e buon ascolto.